Va bene. E' andato là, con il gratuante. Poltate la porta. Questa porta mi piace molto, come per cimocci. C'è la atmosfera. C'è la atmosfera. Grazie. 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 Grazie a farmi. Grazie a farmiipping. Ok. Tengiamo un posto. E beE. La ferma Maria In Mu specimen non viene neanche. Adesso facciamo tutto e tutto da fermo.